Una doppietta di Capitano Lattanzio a rotonda regala al Bitonto il pocherissimo di vittorie che, in uno con la frenata fasanese del Cerignola, fa sì che i leoncelli si possano hissare ad un punto dalla vetta. Mister Claudio De Luca non si fa trarre in inganno dalla classifica dei potentini e vara una formazione tanto accorta quanto impavida. Si rivedono Lonoce fra i pali e Andrea Petta a palladio difensivo accanto a Danilo Colella. Il generoso Radicchio e il temibile Piarulli esterni, signore del centrocampo a DAE col versipelle Piarulli, Riccardi a spingere incessante a destra, danno a pungere a sinistra. Il geniale Taurino alle spalle di un trascinante Ricky. Il collega Tommaso Napoli sistema i suoi uomini con Polizzi in porta, Giordano, Sanzone e Valenti a formare il reparto arretrato, a centrocampo sulle ali De Foglio e Leone, al centro Sisai, Bottalico e Severino, Ferreira da Luz e Gonella le bocche di fuoco. Dopo aver piazzato le tende nella metà campo Lucana, i neroverdi passano. Minuto 21, piazzato del fantasista attascabile che scodella al centro, incerto rinvio della difesa di casa e mancino esiziale del puntero andriese. Poco dopo la mezza, su calcio d'angolo, incornata del piratesco Petta, che argina titubante Polizzi. Al trentaseiesimo, il raddoppio. Ancora l'esterno indiavolato, duetta col puntero e mette al centro, danno a domestica il cuoio col petto per l'attanzio che, tempestivo, trafigge un disorientato Polizzi. A 60 secondi dalla pausa, zuccata imperiosa di Ferreira da Luz, prodigioso sinarca lo noce e incolla i guantoni sulla sfera destinata al 7. In avvio di secondo tempo, i bitontini non chiudono il match. Troppo facilmente leggibile è la punizione di Lattanzio al primo. E così, i lupi biancoverdi provano a riaprirlo con la testata arguta di Gonella, che all'undicesimo sorprende nell'area piccola la difesa bitontina e, tesaurizzando un mini campanile, in sacca. Ma l'imprevedibile palingenesi non sa vera perché al 26esimo, Bottalico, sussurra non certo suavi parolini al signor Bocchini di Roma, che, grato, gli dona un cartellino rosso e una doccia anticipata. Nonostante siano in inferiorità numerica, a 9 dallo scadere, Baldè stringe troppo il destro e calcia strabico e grazia gli ospiti, che sono già pronti per la sfida col brindisi di mercoledì prossimo, con l'intento precipuo di proseguire sulla striscia prolifica di successi.